1886, ultima mostra impressionista. Da questo momento il movimento si disperde. L'impressionismo aveva potuto tanto, ma bisognava andare oltre, frugare ancora fra le pieghe della natura, in un processo sempre più personale e più intimo. Il positivismo crolla sotto i suoi stessi colpi. Il progresso ha distrutto l'uomo e la società. Il suo volto ipocrita è stato svelato da letterati, poeti, artisti. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS